musica 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 bella a tutti ragazzi io sono Alex e io sono Gisius e oggi siamo su minecraft no non siamo sulla serie principale e altrimenti vi spoileriamo che visto che Ale ha fresca dal giorno visto che Ale ha comprato minecraft inizieremo una serie normale vanilla dual dual co bene maximum projectus after the year tralacendo questa informazione oggi siamo qua per giocare a mini jar una mappa survival con che abbiamo appena scaricato cosa facciamo? scarichiamo una mappa cazzo e ci giochiamo allora bene molto interessante oh c'è i maiali cosa? i maiali allora assomiglia tantissimo alla mini blocks che ha fatto surry effettivamente segue lo stesso procedimento del però queste sono barattoli quindi è più figo oh le mucche riscono la cosa oh le mucche può prontiamo l'albero per scendere ecco perchè se non rotti l'albero non sei nessuno c'è l'albero è legblema ecco la cesta cesta nascosta tanta roba tantissima roba comunque non so provo a dare conto che un gru ma ti fa male ok ah no non ti fa male non dovrei poterlo fare ah no infatti non posso ok ok achievement good luck craft a torch craft a bread ok quindi qua ah non posso neanche cliccare allora ok craft a torch possiamo farlo perchè abbiamo 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 capito un'era eh di qualità d'arte queste cose ok achievement craft a torch explain 20 blocks ok primo achievement che va via che non lo so questo forza forza si svegli ok lana ah per fare ma come oggi e il secondo è fare del pane ok quindi abbiamo ok abbiamo l'erba abbiamo l'erba sono malissimo si anche quello quei polli ammazza un po' lui no serve tanto abbiamo una lana eh no ma no no cos'è questo dai ci sono tre mucche ne rimangono due eh si così magari una poi finisce fuori dal mondo poi qualche strano moduli perchè si baglia sai com'è c'era dato due per ogni animale lui cosa vuole fare ucciderli ma non è vero ci sono tre mucche puoi farlo saperlo eh lui chi sta è un mucche stavo dicendo eh tutti i fiori i speculi eh i fiori non li posso uccidere le mucche si fammi capire qual è la la tua politica aziendale eh ci sarà una zappa allora si c'è dato il legno mezzo il legno e mezzo il legno e mezzo il legno e c'è l'acqua qua c'è l'acqua perfetto l'acqua del zappa legno no al pollo al pollo non lo posso pigliare eh al pollo no al pollo no allora prima cosa naturalmente facciamo un bel crafting andiamo 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 qua sulla luminita perchè fa più fine questo si illumina da sotto si illumina d'immenso eeeh eeeh ooooh fra tutto è spaz oh ma perchè il letto è blu è perchè è spax questa è la moppa no non è la moppa sto scrivendo io voglio il letto brusso a proposito dove è finita la torcia è impiazzata non ho impiazzato la torcia si no ho messo una cassa no ok ah te l'ha tolta forse ah me la togli eh quando fai una cosa te la togli forse spererei sta piovendo anche fuori e tanto lo siamo faccio una citazione sta piovendo fuori il governo eh questo è marcus cron ragazzi ho iniziato a seguire le serie di marcus cron ragazzi sono veramente ma perchè sembra tipo un manganello sto cosa una zappa non puoi chiamarla zappa eh invece zappa oh allora la sabbia che facciamo ce la teniamo si quanti semi ne ho? 15 wow la ma io la teppa 15 minima cosa invadete il mio territorio? si basta si un bel quadrato un bel spezzamento ed ora ci resta solo che aspettare no intanto scaviamo un po' di isola no intanto scaviamo un po' di isola sapete 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 ma si impiazzate comunque tanto si va fanno il volo oh precisi precisi ragazzi poi i pollicapessero il nostro campo cazzo pure di merda oh ma lì sei un buffo anche quello che hai fatto tu ci facciamo così un tanto perchè si sa male ah no sfruttiamo questa cesta niente d'altro adesso dinamite su tutti immagini quello che hai trovato di la anche ma quello di la possiamo lasciare anche no ci pensiamo è notte sembra no sembra il sereno mi piove in casa mi piaccia mi piaccia mi piaccia ok e quindi fa ridere perchè panzone che ha dato di pancia eh panzone 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 fa anche una palla no facciamo un attimo il pietrisco faccio un palla il pietrisco cos'è? ossidiano cos'è? no è la vedrock ragazzi la vedrock 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 e perchè c'è del vedrock ff no non puoi romperlo vedrock oh cos'è? silverfish state scherzando il silverfish se di si 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 ok il metodo per testare se è silverfish è fare così ah non c'è più quello lì è silverfish quindi questo è silverfish questo non c'è stardi ma perchè è silverfish perchè ovunque vada in qualsiasi serie in cui io vada ci sono i si ok no fermi fermi tutti fermi tutti si ho bisogno del ferro perchè se no uno di ferro da noi diciamo scherzando uno solo di ferro ho bisogno infatti una palla ho bisogno del ferro infatti una palla perchè se no i silverfish qui lontano non so se avete mai avuto a che fare con questo infatti ho detto vero un pare avevo poi sono 2 scherzando eh oddio non posso vencerlo e vabbè non hai i Silence occurring un codo sacro santo Ok, iniziamo già con Silverfish, quindi si presuppone una mappa complicata Direi di farci una spada E una pala col ferro La volevo fare in ferro Vabbè, per me ce ne saranno altri Eh, anche per me, facciamo una pala No, non fare pala di ferro Carbone, carbone Va buono Questo palo si riesce a uscire con me Avrò il link Eh, puoi farci la spada Tu vuole c'è gioia Mi faccio la spada, naturalmente Devo one shotare Devo one shotare Silverfish No, faccio la spada No, prendiamo lana e bestia, ci facciamo Facciamo una CTM Guarda le pepper Siamo le pepper Eh, devo farla Ah, giusto Ricola di meta Se lei mi sgagna il grano è una brutta persona Non stiamo suggerendo l'isola ma Maccianna Più che altro non voglio che non cadano dentro l'animale Ok Ricordiamoci che Carbone Ricordiamoci che qua Ci abbiamo delle cose importanti Scendo dalla crafting table Eh, ma lei Guarda com'è trasgressivo quel po' Eh, maiale Guarda maiale Che che è maiale? Adesso ti fai una bella spada di ferro e picchi Vabbè, lo dico io Ti dico già quello che farai Ecco Sprechiamo il cavone Sfortunatamente abbiamo l'anominita qua Perfetto Quindi mi ha lasciato Eh, vabbè, qua si fa 8 toni 8 toni Addirittura Addirittura 8 Cioè Mamma mia Cosa vuoi? Comunque io volevo fare questo Se me lo lasciate fare Lo faccio, lo faccio Lo faccio, lo faccio Eh, piccola di ferro Che metteremo via nella cesta Prima di qualche silverfish che uccide Eh, bene Bene, bene, bene Bene, bene Ok, andiamo a spaccare Adesso il silverfish comunque non dovrebbe essere un problema Perchè con un colpo di spada di ferro Dovrei uccidere Sperò non Siiii Non c'è What? Scomparso proprio dalla ventia Ha detto Io non merito d'olivia Uh, che figo La sabice nervosa tipo Ma sento scherzo Lo senti anche tu Si Ah, dove sono? C'è uno spuolo C'è uno stanzetta buio Eh Oh, un spuolo Dio No, non lo ho mai scelto Oltre sono brutti Tutti che sono sempre brutti No, ma in questa cosa Eh, sono ancora più brutti Come tutti gli altri animali Sì Quindi ferro Ma il ferro è vita Come un carbone Come un carbone Ma cosa c'è? C'è la morte Si Cos'è quella roba lì? La morte Cos'era quella roba lì? Non me la sono immaginata Uff Allora Ehm... Fulgo Ma tu hai cule, basta No C'è No Eh sì, a lei Un party Facciamo un party Già che ci siamo E parti nell'abitacolo Guardami Ah, ma siete Ah, ma perché Cosa? Perché loro fanno un tac-tac E poi saltarci No Perché Già che ci siamo Cresci No 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 Forse al centro Al centro sicuro Al centro No 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 Cosa? Oddio A caso A caso C'è una trappola sicuro vero? No Gli scherzi sotto Ma cosa se ne va lì in parte In parte quella roba lì Allora Guarda Ah, per fare la spada forse Lì perché è morta una mucca No, 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 scherzavo No, cioè io voglio Voglio Almeno 10 like per come ho trovato i diamanti, cioè Eh, sono scemo, lo so Lo sapevo E l'ho fatto Eh, vedi che spugna Si, avesse un 3 o 4 ho paura h oh mio, perciò fatti un.. sono brutti ma ho paura quasi oddio 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 forse ho fatto un terreno, ok oh non ci ha fatto veramente un terreno ci ha venuto a sbaglio ti ho lasciato subito addio quant'è sbagliata oddio oddio addio oddio oh addio no diamantino diamantino la 2 spada subito allora non posso andare su non c'è la scala no, l'ho rotta l'ho distrutto tutto all'attacco oh mio dio mi sa che adesso non ne troveremo più le fanno sponare basta no 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 ma quanti ce n'è ora ne spado in ferro no 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 basta gli altri sono soffocati in modi strani uno di bugato sono le particelle buggate abbiamo distrutto tutti non c'erano gli altri oggetti forse abbiamo finito forse ci sono no però li sentiamo sento ancora no no ho chiuso un po' tazzo allora facciamo una cosa mentre il grano risce noi ci vediamo qua quindi se il video ci lascia un commento mettete mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo un bacio video quindi bello ragazzi così finalmente ho trovato uno di quei vermi del dia qui va la che cavolo what ah chi sei oh cavolo siamo nella più totale questo ragazzi è rogwe il guerriero solitario nonché conosciuto come solo mi chiamo rogwe cerca di non dimenticarlo rogwe l'ultimo sopravvissuto di mu quel rogwe king ha detto che è un tipo pericoloso quindi è lui qui è un po' un po'